Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, ancora purtroppo un incidente mortale, tra l'altro a distanza di meno di due settimane da un altro che era accaduto proprio lungo le strade aretine, questa volta a perdere la vita un giovane di 31 anni. Ancora sangue sulle strade aretine a perdere la vita un ragazzo di 31 anni, Daniele Saltapari, residente a Campolucci, frazione del comune di Arezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.40 lungo la provinciale 43 della Libia nei pressi di Patrignone, all'altezza dell'incrocio con la strada comunale che porta proprio all'abitato di Patrignone, la moto del 31enne si è scontrata con un autocarro. Entrambi i mezzi, sembra da una prima ricostruzione, viaggiavano da ponte alla chiassa verso Quarata. Sono entrati in collisione all'altezza della strada comunale che si immette nella provinciale. Le cause dello scontro sono al vaglio degli inquirenti. Nel violento impatto tra la moto e l'autocarro il 31enne ha perso la vita a nulla, sono valsi i soccorsi dei sanitari dell'emergenza urgenza. Sul luogo dell'incidente un'automedica di Arezzo e l'ambulanza infermierizzata della misericordia di Subbiano. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Arezzo. Ha visto uscire del fumo dal cofano dell'auto e così la persona al volante ha accostato ed è scesa giusto in tempo per evitare di rimanere bloccata all'interno dell'abitacolo mentre le fiamme hanno avvolto la sua macchina. L'episodio è avvenuto questa mattina alle 11 lungo la regionale 71 nei pressi di Stroppiello. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per fortuna nessuno è rimasto ferito. Chiuso un negozio nel centro storico di Arezzo l'ordinanza del dirigente del comune risale a qualche giorno fa il 26 maggio e arriva a seguito di un controllo effettuato dalla polizia municipale. Dall'accertamento gli agenti hanno verificato che l'attività commerciale era priva di segnalazione certificata ad inizio attività. In sostanza in quei locali veniva esercitata un'attività abusiva, spiega il comune. Per questo il negozio è stato multato e appunto chiuso. Una domenica no alcol ci sarà domenica prossima ad Arezzo grazie ad una iniziativa che ha visto coinvolti tutti e quattro i quartieri della giostra del Saracino. Un progetto che vede in prima fila anche CEIS e CERD e che si intitola Alla salute della giostra. Tanti colori, una sola sfida. Sindaco, questo è un progetto che potrebbe essere, come dire, estendibile anche alla città? Assolutamente sì, parte dai quartieri che abbiamo detto e abbiamo riconosciuto essere dei presidi sociali importanti che vivono tutto l'anno e non soltanto durante la settimana del quartierista. E da loro parte quest'idea della sensibilizzazione dei giovani rispetto al tema delle dipendenze. E tra queste la prima alla quale si fa riferimento è inevitabilmente quella all'alcol. E quindi alla salute della giostra significa che ci si diverte comunque anche se quella sera, e sarà la serata di domenica, non ci sarà alcol. Il divertimento non passa dallo sballo, è che mi diverto se non mi sballo. Assolutamente è questo dato in negativo che compromette il mio divertimento. Quindi per raggiungere questo obiettivo, che è un obiettivo di importanza sociale e culturale, è indispensabile incontrare i ragazzi, parlare con i ragazzi, ascoltarli e soprattutto mettere in campo quelle azioni che sono efficaci ed effettive. Ecco, Estra ha deciso di sostenere questo progetto e immagino che poi, insomma, se dovesse avere un proseguo lo farà anche in futuro. Ma senz'altro, diciamo, per noi il mondo della giostra è un po' un lievito che arricchisce la città, per cui ci vogliamo investire volentieri. E questo, diciamo, è un segnale, diciamo, anche riguardante il sociale, per cercare di allontanare proprio l'energia e l'esuberanza dei giovani dal mondo delle dipendenze. E questo ci piace e siamo convintamente in appoggio a questo progetto. Il senso di questo progetto, dottoressa, è proprio quello di tendere una mano, farla tendere, insomma, dai giovani ai loro pari, sostanzialmente. Assolutamente sì, il senso di questo progetto è utilizzare proprio il quartiere come una risorsa per la città. Cioè, di giovani ce ne sono tanti che hanno voglia di fare, che hanno voglia di lavorare, che si mettono a disposizione e che non sono solo lì per questi dieci giorni di festa. Anzi, loro ci tengono proprio che questi dieci giorni di festa funzionino bene, che non ci siano problemi e quindi non parte lì dentro il problema. Ma da lì dentro deve partire un messaggio, però, per quei giovani che magari vengono solamente nelle serate di festa, per prendere pretesto, per eccedere. Quindi sicuramente utilizzare il loro linguaggio, i loro modi di comunicare, cose che magari a noi adulti sono un pochino più sconosciute, no? I social, tutte queste cose. Sicuramente è un valore aggiunto in qualsiasi cosa, in qualsiasi messaggio si voglia dare. Torneremo a parlare di giostra nel nostro telegiornale, ma più sotto l'aspetto proprio cavalleresco e della manifestazione, anche perché ci sono importanti novità in merito alla consegna della lancia. Adesso invece parliamo dei volontari a retini, in aiuto in queste ore in Emilia Romagna, colpita dall'alluvione alcune squadre della protezione civile pubblica assistenza alla Fenice. In questo caso erano già state impegnate nei giorni scorsi a Conselice, dove hanno svolto svariati compiti dal drenaggio delle acque alla consegna della spesa alle case isolate. Oggi sono partite altre squadre che avranno il compito di pulire le strade ancora ricoperte da fango, in questo caso a Forlì. Un gesto importante dunque in un momento drammatico, volontari supportati dai tecnici dell'Unione dei Comuni del Prato Magno e dal Comune di Castiglion-Fibocchi. Siamo alla cronaca sindacale, oggi di nuovo alla FIMER, perché era in calendario la videoconferenza con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presente anche la Regione Toscana, il Presidente Gianni ha detto basta, non ne possiamo più, vogliamo chi sappia investire e guidare, sono in ballo 280 posti di lavoro. Sono ancora giornate cruciali per le sorti della FIMER, l'azienda di terra nuova Bracciolini, oggi infatti la vertenza è finita sul tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È molto importante che abbia riaperto un tavolo nazionale perché questa è una vertenza nazionale, non solo perché impatta su tanti lavoratori, ma anche perché appunto questa è una grande azienda dell'innovazione che vive questa situazione che è davvero assurda. La scorsa domenica era stato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, in visita all'azienda Valdarnese, ad annunciare che avrebbe portato la vertenza a Roma, oggi in collegamento da remoto, al quale hanno partecipato tutte le parti interessate. Certamente la posizione della Regione e delle organizzazioni sindacali è molto chiara, serve un elemento di forte discontinuità. Per essere ancora più espliciti gli azionisti devono passare la mano, perché c'è un problema evidente di credibilità, non solo nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, ma nei confronti di tutto il mondo. Intanto il Tribunale di Arezzo ha fissato al 14 giugno la data per l'udienza nella quale sarà dichiarato lo stato di insolvenza che potrebbe aprire le porte all'amministrazione straordinaria. In modo tale che venga mantenuto il portafoglio clienti, che è ancora buono e sostanzioso, e che i lavoratori possano così continuare a sostenere e tutelare l'azienda. Lo stabilimento di Terra Nuova a Bracciolini è occupato dallo scorso primo giugno, giorno in cui la proprietà aveva rinunciato al concordato preventivo, facendo così di fatto saltare la trattativa di acquisizione con il fondo Grebull-McClare. E allora, come dicevamo, torniamo a parlare di giostra, perché a margine proprio della presentazione di questa iniziativa appunto legata alla lotta del consumo dell'alcol e delle droghe, c'è stato un importante annuncio da parte del sindaco di Arezzo e del prefetto di Arezzo Maddalena De Luca. Venerdì ci sarà l'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopodiché proprio il giorno della presentazione della lancia d'oro ci potrebbe essere l'annuncio ufficiale che la consegna appunto del trofeo, del tanto ambito trofeo al quartiere vincitore potrebbe tornare finalmente. Aggiungiamo noi in piazza. Ma la consegna torna in piazza? Stiamo lavorando per riportarla in piazza. Venerdì alle 10.30 ci sarà un Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica convocato e presieduto da Sua Eccellenza il prefetto che valuterà la soluzione che abbiamo già in testa e che verrà proposta. Vedremo quali sono le condizioni particolari che consentiranno di fare la consegna in un luogo simbolico per la giostra del Saracino e poi alla presentazione della lancia diremo anche dove. Sono state valutate tutte le possibilità e sicuramente stiamo lavorando a una soluzione che riporti la consegna della lancia in piazza. Venerdì saranno analizzati tutti i punti del piano dal punto di vista della safety and security quindi tutti i punti che riguardano anche l'Ordine e la sicurezza pubblica dopodiché sarà presa la decisione definitiva sul nuovo cerimoniale. E questo pomeriggio è stato inaugurato anche il percorso espositivo I Colori della Giostra che si arricchisce di una nuova tecnologia con la quale i visitatori potranno navigare tra i luoghi del Saracino semplicemente con un click, un vero e proprio virtual tour messo appunto dalla ditta retina ETA Lab che attraverso tecnologie virtuali e innovative ha mappato in 3D proprio le sedi dei quartieri ma non solo anche dei musici, degli sbaglieratori e di Signa Arezzi oltre ad alcune stanze rappresentative del palazzo comunale. Ci spostiamo adesso a Ponte Buriano perché c'è chi è arrivato da Firenze appositamente per specificare che il ponte della Gioconda è proprio quello. Mi dispiace tanto per i cittadini di Lasterina che comunque rispetto perché è sempre un ponte interessante medievale però col ponte della Gioconda non c'è niente a che vedere. A sostenere che il ponte dietro lo sfondo della Gioconda è Ponte Buriano e non Ponte Romito è l'architetto Massimo Ricci, oggi esperto di restauro dei monumenti del Forum UNESCO dell'Università di Valencia, già docente di architettura ed esperto della cupola del Brunelleschi. È venuto appositamente ad Arezzo per ribadire la sua tesi a portare invece la tesi che sarebbe il ponte Romito è stata una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti resa nota un mese fa. In veste di esperto dell'UNESCO ho fatto gratuitamente una perizia su quello che è rimasto del ponte del Romito quindi lo sono andato a vedere, me lo sono studiato e posso tranquillamente affermare che con la Gioconda non c'entra nulla. Tanto per cominciare a fermaricci come tutti i ponti di epoca medievale agli archi a tutto sesto e non ellittici come invece a Ponte Buriano ma non solo. Il contesto paesistico in cui ha inserito il ponte del Romito sul lato destro ha una struttura muraria enorme che non è assolutamente rappresentata nel quadro della Gioconda perché quella è una struttura originale dell'epoca. La particolarità poi di Ponte Buriano sta nel fatto che a differenza di Ponte Romito e di tutti i ponti medievali ha i bastioni a livello del piano stradale Ponte Romito li ha sull'acqua un metro sopra la linea di massima piena. Per Ponte Buriano, probabilmente per poter risparmiare continuaricci si sono costruiti quelli che in gergo si chiamano timpani più sottili. I bastioni dunque che arrivano al piano stradale hanno la funzione di contrastare le spinte verso l'esterno dei carichi che gravano sul ponte. Un unicum dunque che non è sfuggito a Leonardo da Vinci. Perché Leonardo da Vinci essendo una persona estremamente intelligente e molto preparato anche sulla tecnica costruttiva non gli è sfuggita questa caratteristica di questo ponte che gli ha appena descritto e quindi ha trovato un ponte che ha destato il suo interesse perché questo è come dire a un marziano rispetto ai suoi consimili e l'ha riportato giustamente nel quadro della Gioconda. Ma addirittura, siccome c'aveva una mano eccezionale quei pochi tratti che si riescono a interpretare dal quadro stesso dimostrano che i bastioni arrivano fino al piano di calpestio della strada. Le volte sono volte littiche ribassate c'è qualcuno che dà eccefile sul numero degli archi ma è chiaro che gli archi che non si vedono sono coperti dagli alberi. Su questo tema è in programma a settembre una conferenza scientifica organizzata dall'Associazione Brigata degli Amici dei Monumenti che ricorderà anche gli studi della rettino Carlo Starnazzi con le sue ricerche fu uno dei primi negli anni 90 a sostenere che il ponte sullo sfondo della Gioconda è proprio Ponte Buriano. Col diretti e Rotari insieme per la Caritas ancora una volta il mercato di Campagna Amica di Piazza Giotto ha colto una delle iniziative solidali organizzate dall'Associazione Aretina una conferenza stampa tra i banchi dei produttori per presentare proprio l'iniziativa benefica con la quale sono stati donati 2.500 kg di prodotti degli agricoltori di Campagna Amica alla Caritas grazie appunto alla generosità del Rotari Club Arezzo. Manuel Bortuzzo oggi ha confronto con gli studenti del Valdarno lo sport come mezzo di inclusione sociale. La corsa in ospedale, l'operazione che permise di estrarre il proiettile e la nuova vita in sedia a rotelle a causa di una lesione bidollale. Il sogno di diventare un campione del nuoto spezzato dagli spari davanti a Dumpab alla periferia sud di Roma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019. Manuel Bortoruzzo resta così paralizzato a 20 anni ma non si è mai arreso. Ricordo tutto un po' come fosse ieri ma ricordo con più piacere forse le cose belle che poi sono riuscite a fare. Oggi l'atleta paralimpico ha incontrato al palazzetto dello sport di Montevarchi oltre 400 studenti degli istituti del comune in una giornata dedicata al tema sport e di inclusione. L'iniziativa è il proseguo di un cammino che avevamo già iniziato abbiamo invitato prima Zanardi che è un altro grande campione e poi Paolo Rossi e adesso Manuel perché il nostro tentativo è proprio quello di far conoscere attraverso i grandi campioni degli sport i grandi uomini che in realtà ci sono dietro. Quando si tratta di incontrare i ragazzi sono sempre ben volentieri accetto ben volentieri perché se bisogna cercare di fare un piccolo cambiamento in qualcuno è meglio farlo appunto nei ragazzi che insomma hanno una vita intera davanti dove possono sperimentare cose nuove e quindi il messaggio che poi vorrei lasciare è quello che insomma la vita non si ferma davanti a nulla la vita davanti solo davanti alla morte si ferma quindi in quel momento fino a che abbiamo la possibilità e l'opportunità di vivere dobbiamo vivere e dobbiamo riuscire a fare quello che sentiamo dentro al meglio. Manuel Bortoluzzo grazie alla sua tenace passione per il nuoto ma anche per la vita si è rimesso in gioco ed è tornato a vincere il prossimo obiettivo sono le Paralimpiadi a Parigi 2024. Adesso stiamo preparando un sacco di cose bellissime non vedo l'ora di andare a fare gare sempre più importanti e quindi super super contento che sia rimasto il centro di quella che è la mia vita è la mia essenza. Al via importanti cantieri a Villa Mazzi alla scuola primaria di Cigiano nel comune di Civitella in Val di Chiana il progetto di ristrutturazione della scuola dell'infanzia Lo Scoiattolo e la riqualificazione di Villa Mazzi a Oliveto era stato presentato a febbraio 2022 dal sindaco Andrea Tavarnesi dunque adesso sono appunto partiti i lavori questo progetto spiega il sindaco doveva portare ad un adeguamento statico e sismico del fabbricato un rispetto anche della norma antincendio e di un vincolo storico della soprintendenza abbiamo ottenuto tutto questo in un progetto importante parliamo ovviamente di Villa Mazzi che coniuga quello che è appunto un impegno sia della passata che di questa amministrazione ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci